come fa il coach, l'allenatore maniavantismo però la mia malizia sta nel far parlare dell'Inter subito uno gioventile no no prego se volete vuoi sentire Pini che lancia la palla subito lui fa il disturbatore sai che nella commedia dell'arte del calcio nella commedia dell'arte del calcio serve anche il disturbatore, benvenuto disturbatore ci disturbi grazie, grazie io non riesco a se fossi un tifoso dell'Inter dopo quello che ho visto l'anno scorso e l'anno prima dopo aver aggiunto quest'anno soltanto i giocatori di livello totale, perché i giocatori che ha preso l'Inter a parte il portiere, giocare per l'Ottolai nel Milan, nel Napoli, nella Juventus, nella Roma nella Lazio, nella Fiorentina e anche nell'Atalanta se la Juve avesse Taremi davanti al posto di Vauvic la Juve probabilmente lotterebbe per lo scudetto Taremi è un giocatore già fatto e finito Zieliński altrettanto sai che da quando stai vicino a me stai migliorando no, ma no, è quando non ci sei che beppe il concetto è avendo dei codici fra di voi sì, ma no, ma mi interrompe e vuol farmi perdere il filo lui perché dopo così non lo sapevo il disturbatore e l'interruttore l'interrompitore no, il concetto è semplicemente che da un allenatore che si dimostra e si è dichiarato quest'anno l'abbiamo dichiarato più volte che Inzaghi è cresciuto che ha trovato finalmente il modo per gestire la squadra in modo migliore non aver paura di se stesso di proporre gioco e basta di asfaltare il campionato perché questo è stato lui parla come se fosse il Milan o il Napoli che ha vinto lo scudetto cioè lui ha paura di cascare nell'errore che hanno fatto le altre due nei turni precedenti però l'Inter ha perso due scudetti negli ultimi tre anni non è che li ha vinti allora la prima risposta al primo disturbo primo disturbo no, ma lui viaggia per corrente su allora spiegami perché Marotta ha messo due milioni di euro in più sul contratto del se vince il campionato in Zaghi perché? se il premio se io non lo so io sullo scudetto guarda caso anche tu c'hai la fonte? no, no l'hanno detto loro l'hanno dichiarato loro pubblicamente allora risposta al disturbo quindi un in Zaghi che dice ma no, ma sono frasi fatte da 40 anni che ha paura ma no, paura no anzi si è fatto una bella esperienza perché io non dimentico quando ho vinto il Milan noi abbiamo fatto sette pareggi grazie quindi da lì con tutto il merito del Milan perché non era la più forte e chapeau che ha vinto il campionato da lì l'ha fatto crescere molto e sono sicuro perché gestire anche 17-18 titolari non è semplice no, certo quindi perché noi parliamo che ci sono Zaghi però c'è anche l'anno dopo con Napoli eh sì poi Napoli esperienza che lì ha fatto un capolavoro però potevi giocartela fino a febbraio allora scusate c'è una notizia sul difensore sì che potrebbe essere l'argentino Thomas Palacios che è un giocatore giovane l'identikit che ha indicato la proprietà la nuova proprietà Autri non è ancora fatta però il giocatore ovviamente verrebbe subito all'Inter c'è un po' di concorrenza tedesca 5-6 milioni era un po' la cifra che l'Inter aveva stanziato quando poi è arrivata la Juventus e ha preso Cabal però l'Inter vuole spendere poco per un difensore mancino potrebbe essere colui questa è la formazione in vice bastoni un ottimo piede mentre in attacco in attacco in sali ci ha dato una notizia oggi cioè Correa non è fuori dal progetto potrebbe addirittura rimanere quindi 5 attaccati la tesi l'abbiamo fatto fuori no scusa la tesi qui non c'è tutta la rosa questa è la formazione probabile con gli acquisti diciamo certi e con questo palacio sincero quello lo so è che fa più di fa impressione anche gli stessi bisec però l'anima mezza provocazione su quello che ha detto in sali quest'oggi per completare il mercato perché giustamente fuori onda diciamo in realtà le punte dell'Inter sono 7 in questo momento allora c'è Salcedo che potrebbe andare in prestito in serie B italiana quest'anno ha finito nell'ecco Satriano che ha rifiutato il Brest per 6 milioni e l'Inter non lo sta utilizzando perché comunque era una cifra importante per fargli capire che comunque preferirebbe prenderla quella cifra lui vorrebbe andare in Liga ci sono un paio di squadre che lo stanno seguendo tra cui il Betis e il Siviglia gli altri due Arnatovic e Correa abbiamo sentito oggi Inzaghi è disposto a tenerli mentre per domani indisponibili sono rimasti De Vrai che recupererà per la terza giornata a fine mese e Zelischi che viene riaggregato tra due o tre giorni gli altri non c'è il debutto pare che dovrebbe giocare anche subito Taremi io credo più Lautaro anche se oggi Inzaghi è rimasto un po' Lautaro ha lasciato qualche dubbio però secondo me partono Lautaro Turam con Taremi che entrerà per sostituire la partita in corso esatto e poi in panchina porta anche Arnautic l'ha recuperato anche lui voglio fare queste due domande poi mi rispondete tutti mi taccio sull'Inter la domanda è questa e la giro a voi studio poi dopo a chi è collegato nessuno ha aperto un ciclo negli ultimi anni l'Inter ha vinto poi è andato via Conte è andato via Lukaku è andato via Kimi poi ha vinto il Milan non si è capito bene che tipo di mercato abbiano fatto per l'anno successivo ma non si è aperto un ciclo anzi insomma è finita male secondo me con Pioli poi dopo vediamo perché vinto il Napoli insomma ne abbiamo discusso molto dei laurenti si può dare la palma dell'irrazionalità perché tutte le scelte sono state ispirate all'assoluta mancanza di qualsiasi governance quest'anno con quest'Inter qui con quest'Inzaghi con questa società perché insomma è vero che c'è stato un cambio di proprietà ma non se ne è accorto quasi nessuno perché Marotta ha continuato a parlare come fosse il punto di vista sportivo tecnico e di governo della società però sarà intanto una cosa importante che tu hai detto aprire il ciclo è difficile la leggenda del fatto che la Juve vinceva nove scudetti perché non c'era nessuno ma potrebbe essere guardata anche in questo caso perché quando il Napoli vince stravince non c'è nessuno che lo sta dietro quando l'Inter vince stravince non c'è nessuno quando il Milan vince crollano le big quell'anno perché l'Inter casca su se stessa e il Milan vince uno scudetto con meno di 80 punti che è una cosa abbastanza rara no no 86 a 84 ok sono comunque 86 punti non è stata una stagione dominata dall'inizio alla fine è un buon punteggio no senz'altro però è una squadra che in vent'anni ha vinto uno scudetti per essere in Milan è troppo poca roba per essere una squadra di quel livello stoico insomma poi lo conosco anche personalmente credo sia un numero uno assoluto del calcio italiano Marotta no io voglio dire che sul discorso ciclo ci dobbiamo intendere perché secondo me l'Inter il ciclo come dice Marotta sempre secondo me non siamo nemmeno alla metà del ciclo perché lui intende ciclo 19-20 finale di Europa League poi dal 20-21 inizia a vincere trofei ogni anno il primo è lo scudetto di Conte il secondo è lotta con il Milan punto a punto ma vince due trofei nazionali il terzo finale di Champions e ancora due trofei nazionali l'anno scorso due trofei tra qui lo scudetto se tu vinci aspetta però fatemi finire la frase se uno vince sette trofei fa due finali europee vero perse e lotta per lo scudetto uno dei due anni in cui non vince lo scudetto cioè non è ciclo questo sicuramente è un ciclo importante ma non può per l'Inter essere soddisfacente come non lo può essere per il Milan o per la Juventus vincere una Coppa Italia o una Supercoppa Italiana e mancare lo scudetto perché gli obiettivi veri sono quelli sì ma in questi cinque anni per l'Inter ti assicuro che è un ciclo super soddisfacente sì sì per carità poi se io dopo quattro scudetti di fila vincevo due Supercoppa Italia e due Coppa Italia non le festeggiavo quest'anno non ho festeggiato la Coppa Italia ma tocca a me io non sto dicendo che l'Inter festeggia le Coppa Italia ma sto dicendo che è una cosa è una roba così allora il Milan ha vinto uno scudetto va bene se vinci il campionato in questi anni prima e dopo non è riuscito a dare continuità vero l'Inter anche nell'anno in cui non ha vinto lo scudetto se tu fai la finale di Champions o vinci due trofei nazionali e dare continuità e la sta dando da però la finale di Champions non è un trofeo più tempo ce la prendiamo dopo ma non è che è chiaro che quello che abbiamo visto diciamo agli europei di calcio non è colpa solo nel nostro campionato giocano tanti giocatori troppi stranieri meno stranieri troppo pochi giovani vedremo poi nel Milan che anche quest'anno Camarda mi sembra vada verso l'Under 23 ma alla fine non è che poi il dominio dell'Inter è frutto di un campionato non all'altezza con troppe squadre scontate prima parlavamo dei miracoli del Girone dei miracoli dell'Eister chiaro che Mogi ha ragione quando dice che sta cambiando la governanza delle società adesso qui non c'è voglia di aprire un discorso politico sui diritti sui soldi o meno o su quanti fondi stranieri sono venuti a comprare le squadre come sai Luciano sono anche un giornalista politico quindi intreccio le due questioni però volevo dire alla fine più che il dominio dell'Inter che l'Inter abbia paura di essere ancora all'Inter è la seconda provocazione forse sono le altre che devono cominciare ad essere in grado cioè il nostro campionato si deve evolvere che poi andiamo in Europa andiamo a livello internazionale insomma abbiamo visto delle cose da raccapriccio come delle responsabilità precise qualcosa secondo me c'è da cambiare però è un discorso che ci prendiamo una sera che andiamo a rota libera ma andate fiamma a fianco adesso magari qualcuno finiamo a mezzanotte io posso pure far saltare la scaletta e andiamo avanti sei anni sei anni che mi occupo dei giovani quindi so li ho visti tutti quindi bisognerebbe tornare io non dico metà e metà però dar fiducia ai giovani italiani perché poi anche quando arrivi in nazionale si fa fatica in questo momento perché sono convinto che giocando pochi titolari oppure un campionato importante quando va a livello di nazionale insomma qualche problema ce l'abbiamo quindi dobbiamo essere più attenti e io per giovani e sei anni ho avuto la fortuna di vederne tanti ci sono dei giocatori che bisogna aprire le porte perché non gioca da noi le squadre di questo campionato perché 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 il Milan Camarda lo manda nell'Under 23 poi ne parliamo ne parliamo lui è già uno bravo però adesso c'è sempre non bisogna bruciarlo oppure uno bravo ti dicono bisogna mandarlo in giro perché non è pronto quando uno lo ritieni bravo io sono per quelli che avanti io ho esordito la prima partita a 16 anni non l'ho mai presa però intanto ho messo piede nel campionato ti ha fatto giocare e nonostante la prima partita sì però se non trovavo chi mi dava fiducia ero ancora lì è bravo è promettente no dobbiamo imparare in questo momento miscelare grandi campioni con giovani e ce ne sono tanti ma io su questo discorso posso anche essere d'accordo poi ti abbiamo ammesso a consenso giornalistico per essere giovane non scherzare poi su Camarda vi dico la mia quando parliamo di Milan restando sull'Inter con l'Inter in questa chiave non mi interessa ora l'Inter l'Inter come metafora specchio della mediocrità del calcio italiano non so se mi spiego se ho reso l'idea io credo che l'Inter qualcosa stia evolvendo da questo punto di vista anche se non sui giovani italiani l'Inter ha evoluto sicuramente il suo pensiero nel passaggio da Zanga ad Oc3 cercando di andare più su dei profili giovani su dei profili anche da crescere e da rivendere e forse il problema in Italia è proprio la materia prima cioè il fatto che di italiani forti per squadre forti e io mi riferisco soprattutto a Inter Milano e Juve ce ne sono pochi mi riallaccio a Camarda Camarda può essere fortissimo ma ha la forza e la mentalità di avere la 9 del Milan sulle spalle e di giocare titolare in Serie A io però voglio fare la domanda perché io dico che se c'è una squadra favorita forte nessuno toglie la sua forza i meriti conquistati sul campo se capra un ciclo o meno però poi ci ritroviamo in campionati che finiscono a metà stagione con troppe pochi rivali con partite scontate con cose voi sapete io ho diventato anche una grande attestata nazionale avevo il CSO della finanza che veniva e mi faceva dare gli ascolti di alcune partite che erano vicine all'asintoto allo zero diciamo ma che dobbiamo comprare tutte le squadre ne compriamo 8 poi ne compriamo 4 poi le combiniamo grazie a tutti i nostri spettatori